Eccoci ora con una parte di Polifemo che intende dare spazio alla festa della donna e abbiamo cercato di occuparci di alcune delle più belle iniziative, sono tutte belle per carità, ma mi ha colpito in modo particolare l'iniziativa che sta avvenendo qui presso il reparto di mammografia della struttura del padiglione Vinci dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, un'iniziativa che vede coinvolte l'ASL di Taranto, l'amministrazione comunale di Leporano e la LAVO, associazione appunto volontari ospedalieri. Come vedete dalla pergamena 8, c'è il stilizzato il numero 8, 8 marzo, la forza delle donne, auguri a te donna speciale. Proprio questa pergamena viene simbolicamente consegnate alle donne che usufruiscono di questa struttura ed è, lo sottolineo ancora una volta, davvero bello vedere certe iniziative di crescita sociale e di profondo senso di umanità, iniziative che vedono partecipare insieme istituzioni e mondo del volontariato. Ho citato l'amministrazione comunale di Leporano e abbiamo qui la dottoressa Iolanda Lotta che è assessore alla comunicazione istituzionale e agli spettacoli del comune di Leporano. Iolanda Lotta, una donna in difesa delle altre donne, la prevenzione e la cura. Sì, l'amministrazione comunale è tutta insieme, soprattutto le donne, perché abbiamo intitolato la forza delle donne, perché nell'amministrazione siamo quattro donne, dove c'è l'assessore Amorosi, poi c'è il consigliere delegato De Milito e il presidente del consiglio Anna Maria Cosma. Abbiamo voluto considerare questa opportunità di sentirci, io mi sono sentita con Anna Pulpito che fa parte della presidente dell'associazione AVO e insieme abbiamo deciso di non festeggiare la donna, di non ricorrere nelle solite manifestazioni che si fanno, che fa tutto d'Italia, ma abbiamo voluto focalizzare una manifestazione proprio a tutela delle donne. Le donne bisogna celebrarle 365 giorni l'anno e proprio in questo modo che insieme all'associazione AVO abbiamo voluto proprio dare un pensiero alle donne, alla forza delle donne e parlare della prevenzione. Dalla prevenzione, per questo siamo proprio qui stamattina a dare un attestato alle donne in modo che si parta dalla prevenzione e si arrivi poi alla cura. Maria Amoroso, assessore ai servizi sociali del comune di Leporano. Un momento davvero per realizzare appunto un'azione sociale con questa iniziativa. Io penso che comunque la forza della donna parte e si vede proprio da qua, da questo luogo molto importante, dove la donna reagisce pur soffrendo alla forza di andare avanti per la propria famiglia e i propri figli, sempre. La donna coraggiosa e forte, sempre. Anna Pulpito, presidente dell'AVO, associazione volontari ospedalieri. Riflettevamo, la vostra attività non è solo di oggi, ma è 365 giorni all'anno. Ogni giorno è 8 marzo. L'apporto dell'AVO, il sostegno dell'AVO a questa iniziativa. Intanto ringrazio l'amministrazione comunale per averci chiesto questa collaborazione e ringrazio anche la struttura dell'ASL, l'ospedale che comunque ci ha dato, ci dà questa possibilità perché ormai ci sentiamo parte integrante in famiglia, anche se loro sono loro, dire molte volte, diciamo noi che dobbiamo ringraziarvi. Tu hai detto presidente, ma io tengo a sottolineare che prima di dire presidente sono volontaria da 13 anni. Ha cambiato proprio la mia vita? Certo, la festa della donna è importante, ma come detto all'inizio è importante e fondamentale che questa attenzione verso le donne ci sia sempre e con l'azione che voi svolgete, penso che lo dimostrate ampiamente. Infatti per questo oggi io non ritengo che sia una festa, festa della donna. Intanto non dovremmo dimenticare le origini di quelle donne che sono morte proprio per rivendicare i loro diretti e quindi questa giornata a distanza di più di un secolo dovrebbe essere una giornata di commemorazione più che una giornata come ancora si fa di spensieratezza, di svago o di divertimento. Ma credo che non dovremmo perdere di mira quali sono davvero i concetti di uguaglianza, di riscatto, di rispetto. Ecco, sottolineo rispetto perché è ancora strada da fare, credo che le donne ne abbiano tanto da fare, davvero. E cosa dire, noi qui con mano tocchiamo e vediamo e tocchiamo con mano davvero la vera sofferenza e quali siano davvero i veri problemi e le vere donne, perché qui dentro possiamo vedere quali siano le vere donne. Scusate per l'emozione. No, 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 è andata benissimo. E poi siete spontanei e come lo siete nell'attività quotidiana di servizio verso chi soffre. Esatto, sono più spontanea davanti a una persona, a una paziente che non ha una telecamera. Promossa ugualmente dal punto di vista televisivo. La dottoressa Grazia Suma della Direzione Sanitaria dell'ASL di Taranto, settore infermieristico. L'ASL ha voluto sposare questa iniziativa proprio per umanizzare, rendere ancora più umano appunto il rapporto tra paziente e struttura sanitaria. Sicuramente. L'obiettivo di questa ASL è appunto rendere sempre più vicino le persone con la cittadinanza. Quindi fare un continuum. In questa ottica ci siamo confrontati e ci confrontiamo quotidianamente con l'AVO, con le associazioni e con quanti vogliono entrare in questo mondo. E questo è l'obiettivo. Noi non dobbiamo dare alla persona, ma questa è la casa delle persone, la casa dei cittadini. E in quanto tale devono sentirsi davvero i partecipi di tutto il momento di salute e dal momento della prevenzione a quello della cura. Quindi parte integrante di questa casa. L'assessore Lotta voleva dire qualcos'altro. Un ringraziamento va all'associazione AVO, nella persona del presidente Anna Pulpito, ma anche a tutta la direzione dell'ASL che ci hanno accolti e hanno accettato la nostra proposta. 8 marzo, festa della donna. Vuol dire anche occuparsi della salute della donna a 360 gradi, partendo dalla prevenzione e arrivando alla cura. Ecco, siamo qui presso la struttura dell'ospedale del Padiglione Vinci. Siamo di Taranto, del Santissima Annunziata e siamo in compagnia del dottor Giuseppe Melucci, che è appunto il responsabile della sezione mammografia della ASL di Taranto. Sì, sì, esatto. Oggi, appunto, l'8 marzo. Io dico sempre che in questa maniera, col programma di screening, noi festeggiamo l'8 marzo tutti i giorni dell'anno, prodigandoci molto per questo programma di prevenzione, sulla quale l'ASL Taranto e io personalmente abbiamo puntato moltissimo e che ci vede, insomma, in prima linea in regione su questo terreno. Quindi il programma di screening è un programma di chiamata attiva delle donne in una certa fascia d'età, da 50 a 69 anni. Programma che ha buon successo, c'è una buona rispondenza, le donne, diciamo, rispondono con una buona percentuale di adesione a questo programma, che ormai è stato avviato già dal 2009, consolidato, ed è un nostro motivo di orgoglio, perché poi la prevenzione, da un lato è una risposta attiva, proattiva a questo problema, dall'altro poi ci obbliga a rodare certi meccanismi, perché la prevenzione è il primo passo, ma poi come vedremo, dopo la diagnosi, durante la diagnosi, la donna è accompagnata in tutti i percorsi, in tutti gli step successivi ad un'eventuale diagnosi dopo la mammografia. Quindi è stato elaborato all'interno di questa struttura, della nostra ASL, un protocollo, un PDTA, un protocollo diagnostico-terapeutico-assistenziale, in cui ci sono tutta una serie di figure, sono dei team multidisciplinari, radiologi, oncologi, patologi, radioterapisti, psico-oncologi, cioè tutto uno staff di persone, di professionisti, che si mette poi a disposizione della donna e la accompagna in tutte le fasi del percorso. Dottore, è anche e soprattutto una questione di cultura, quella della prevenzione, perché poi molte volte il male si presenta quando invece si sarebbe potuto tranquillamente evitare. Ecco, come dire, far comprendere l'importanza della prevenzione. Beh, l'importanza della prevenzione è chiaro, noi dobbiamo farla comprendere sempre più, le donne già direi che l'hanno compresa, la comprendono, ma è chiaro che non è un'azione che si può esaurire, quindi noi dobbiamo sempre, cioè l'azione di sollecitazione alla prevenzione deve essere sempre costante e continua. Prevenzione che, per quanto riguarda la mammella, è una prevenzione secondaria, cioè fare una diagnosi precoce, ma sempre per la mammella sta diventando un pochino anche prevenzione primaria. Come fasce di età, ecco, rivolgiamo un messaggio alle donne, considerando le varie appunto fasce di età. Una donna che ha 20, 30, 40 anni, quello che sia, cosa dovrebbe fare? Appunto, quello dicevo poc'anzi, di prevenzione primaria vera e propria ancora non si può parlare, cioè di impedire che il tumore si formi, però è chiaro che gli stili di vita ormai hanno un ruolo piuttosto importante nel determinare questa malattia, perché tutte le fasce giovanili alle sotto dei 40 anni sono chiamate a uno stile di vita particolare, corretto dal punto di vista alimentare, dal punto di vista dell'attività fisica. Dai 40 anni comincia la vera e propria prevenzione con secondaria, con mammografia, che al momento è legata all'iniziativa della donna. Dai 50 ai 69 anni c'è il programma di screening, che è un programma invece di chiamata attiva, cioè la donna non si preoccupa di prenotare la mammografia, viene chiamata attivamente dall'ASLO e questa ASLO ha un buon programma, una buona estensione del programma di screening, riesce praticamente a coinvolgere tutte le donne in fascia d'età. Dai 70 in avanti c'è sempre l'indicazione a fare la mammografia, ma sempre su autonoma presentazione della donna. Il programma di screening coinvolge le donne dai 50 ai 69 anni. C'è poi tutto un capitolo sul rischio eredo familiare, eccetera, che richiede dei programmi di controllo a parte un po' più stringenti e anche un po' più precoci.